Entra in casa e si trova faccia a faccia con una nutria alta 1 metro e 35 centimetri, è accaduto in provincia di Treviso, per la cronaca a Quinto, dove il proprietario dell'abitazione terrorizzato dall'enorme animale ha subito chiamato i vigili del fuoco trevigiani. A loro volta i pompieri che l'hanno catturata l'hanno consegnata al guardia caccia della provincia di Treviso, il proliferarsi delle nutria comunque è un problema che riguarda anche la provincia di Venezia.